Eccoci a questo nuovo incontro di conversazione e conoscenza di uno scrittore bolognese, in questo caso Sandro Toni. È l'occasione per parlare con lui del mondo della scrittura, del suo mondo di autore. È l'occasione di un libro uscito proprio recentissimo, che ha scritto a quattro mani Sandro assieme a Loreano Macchiavelli. Questo è il libro, si chiama Sarti Antonio l'assassino, dove viene ripresa una figura classica, storica, della letteratura gialla poliziesca italiana, che è il personaggio famoso di Loreano Macchiavelli, Sarti Antonio, poliziotto, anzi questurino, come viene definito nel libro di Bologna. E l'occasione è curiosa perché un tradizionale personaggio di Loreano Macchiavelli viene abbinato ad un altro personaggio molto importante nel libro, una delle figure portanti della storia, della trama piuttosto intricata. Figura che viene affidata alla cura letteraria e creativa di Sandro Toni. E' sempre abbastanza curioso per chi scrive, chi chiama la scrittura, meditare sulla scrittura a quattro mani. La scrittura a quattro mani ha degli esempi piuttosto rari, ma sempre molto elevati, eccellenti. In Italia, ma non solo, anche nel mondo, gli scrittori a quattro mani hanno sempre avuto un impatto molto forte sul mercato e anche sulla sensibilità letteraria dei lettori. Come vi è venuto in mente di scrivere un libro a quattro mani? L'idea era nata, devo dire, da me, ed era nata per una questione di carattere puramente narrativo. Leggendo i classici del romanzo giallo americano, o del romanzo d'avventura, semplicemente, diciamo Grisham, diciamo Ken Follett, diciamo Tuorov, mi ero accorto che molto spesso per così esigenze puramente narrative o semplicemente per sfizio, questi autori moltiplicavano i punti di vista, nel senso che prendevano in considerazione un personaggio, poi prendevano in considerazione l'antagonista, e poi prendevano in considerazione un altro personaggio ancora che poteva avere una qualche influenza nella trama, e quindi moltiplicava i punti di vista, ma in realtà il punto di vista dell'autore restava il medesimo, cioè era lo stesso autore che con un escamotage, se vogliamo chiamarlo così, dotava il romanzo di diversi punti di vista. Allora ho pensato, ma perché non adottare due autori per due punti di vista diversi? E allora ho fatto la proposta a Loriano Machiavelli, che devo dire si è dimostrato entusiasta della possibilità di questo esperimento, e anche l'editore, quando gliel'abbiamo proposto, ci ha immediatamente appoggiato e fatto firmare il contratto. E l'idea, appunto, quello che è venuto fuori nasce da quest'idea, e sono in realtà due romanzi con una stessa trama, con gli stessi personaggi, però assolutamente separati, una porta avanti l'indagine di Sarti Antonio, cioè di colui che indaga, del questurino, secondo la definizione di Loriano, e l'altra invece è l'indagato, il supposto colpevole, il supposto assassino, che sono io. E i due romanzi, diciamo, vengono a intrecciarsi, un capitolo l'uno, un capitolo l'altro, due l'uno, due l'altro, ma tutto sommato sono abbastanza riconoscibili, sia per, proprio così, per la materia, per il contenuto, uno è Sarti Antonio e la sua Bologna, l'altro è l'assassino o il professore indagato che è il carcere. Ma anche, non solamente per questo, dicevo, ma anche per lo stile, perché Loriano Macchiavelli ha un determinato stile, quello che ha caratterizzato sempre i suoi romanzi, e io ho uno stile molto diverso dal suo, ecco, quindi la cosa, credo, l'importante era quello di fare coesistere queste due forme di scrittura diverse, e spero che ci siano riusciti. Devo dire, dopo aver letto il romanzo, che l'amalgama è riuscito alla perfezione, pur mantenendo una notevole differenza, appunto, come dicevi tu, tra i due stili di scrittura, Loriano Macchiavelli scrive col suo abituale, graziosissimo brio, allegria, è pungente, forse ha qualche connotazione politica di più, il suo Sarti Antonio. Ma devo dire che col passare delle pagine la tua scrittura levita molto dal punto di vista qualitativo, e ci sono pagine di dolore e poesia, nelle pagine del professore, da te curate, che sono veramente molto belle. Però, dopo questo input sul nuovo libro, vorremmo entrare un po' di più nel mondo dello scrittore Sandro Toni. Devo dire che tu hai una vasta bibliografia, alla quale ovviamente ho attinto per questa conversazione, anche di titoli, hai cominciato, mi pare, a pubblicare nel 1986, di titoli che hanno avuto un notevole successo di vendita, e sono tutti titoli piuttosto piccanti, mi viene a dire così, perché ve ne leggo qualcuno velocemente, va de mecum del single boy, abc della cattiveria, a chi lo dico insultario e ragionato, non salvare la ragazza in pericolo contro manuale di Bonton, cioè tutto qualcosa, è sempre stata una letteratura forse di tipo divulgativo e popolare, ma tutta orientata al contro. Poi improvvisamente abbiamo avuto un tuo primo romanzo, sempre a trama gialla, poliziesca, che si chiamava Tutte le noti e qualche giorno, uscito nel 1994, dove hai drenato via tutta la tua verve comico-pungente per tuffarti in una storia gialla del passato. Come è stato il tuo inizio di scrittore in questo campo divulgativo e comico? Perché hai fatto il passo verso il romanzo? Ma guarda, io ho cominciato a scrivere romanzi, diciamo così, comici, perché avevo conosciuto casualmente uno dei grandi editor della Rizzoli, che era, che era, dico era perché purtroppo è morto alcuni anni fa, che era l'ovvio di un mio carissimo amico, che non avevo mai avuto occasione di incontrare. E una sera lui era venuto a Bologna, è andato a cena col nipote, e sono stato invitato anch'io, e abbiamo parlato di libri. E lui aveva in mente di scrivere questa cosa su una figura sociale che allora cominciava ad avere un qualche rilievo in Italia, cioè che era quella del single boy, cioè di una persona, un uomo che vive da solo, che non ha famiglia, che non ha moglie, che è abbastanza, dopo le grandi rivoluzioni del 68 e del 77, che era diventato abbastanza autonomo da poter vivere, o da pensare di poter vivere da solo, senza una donna in casa, di essere la famiglia di se stesso. E se ne cominciava a parlare sui giornali, mi ricordo che anche i giornali di Bologna, l'Unità, il Carlino, avevano parlato all'epoca di questo fenomeno, fenomeno che cominciava già ad avere una certa consistenza. Quindi lui mi disse che aveva intenzione di scrivere questa cosa, e se io sarei stato capace. E io dissi di sì, perché io ho sempre avuto una vena comica, nascosta anche da ragazzino, io scrivevo le cose così comiche, ironiche, le parodie sui giornalini della scuola, ecco, mi è sempre piaciuto. E allora, sventatamente, dissi di sì. Dissi di sì, anche se io ho sempre pensato di avere in fondo una vena tragica dentro di me. Io mi pensavo più come Euripide, no? Che come Jonathan Swift. Quindi, e ho fatto questo scommesso. Il libro è andato molto bene, e allora sono diventato uno scrittore di libri comici. E tutti mi chiedevano libri comici, quando io a lui, all'edito, diceva, ma guarda, io ho un romanzo, che è poi quello che è uscito nel 94, io nell'86, che avevo già scritto tanti anni prima, e lui mi dice, ma che romanzo? Tu sei un autore comico, una figura, tu un romanzo, ce ne frega noi dei romanzi, no, no, niente. E quindi io, finché lui non è morto, io non ho potuto scrivere questo romanzo, che ha avuto grandi vicissitudini. Questa è l'idea. E devo dire che la cosa curiosa è piuttosto l'idea che io scrivo un romanzo giallo. Perché io non sono mai stato un lettore di gialli fino al 75. Ti dico, è successa questa cosa qua, molto semplicemente. Devo dire che io sono sempre stato, lo ero molto di più da ragazzino, molto snob, e pensavo che il romanzo giallo fosse un romanzo di quarta, insomma. Cioè, uno, una persona seria, legge Dostoievski, Stendhal, non è che va a leggere i romanzi gialli, cioè, proprio sei brutti leggono i romanzi. E casualmente, pochi mesi prima, era venuto a lavorare in Cineteca Machiavelli e mi aveva detto che lui aveva scritto romanzi gialli, così, allora io ne lessi uno casualmente, forse era il primo o il secondo che lui aveva fatto. Sempre di Sardegna Antonio? Sì, sì, sempre di Sardegna Antonio. E allora la cosa, devo dire, mi incuriosi, mi piacque molto. E saputo da lui che esistevano altri scrittori di libri gialli, cominciai a leggere, cominciai a leggere i grandi classici, che io loro ignoravo, se non per aver sentito dire. E in un'estate drammatica, quella che condusse alla mia separazione con mia moglie, al mare, mentre lei sfarfalleggiava per le spiagge, io mi ero richiuso in un posto bellissimo a leggere e lessi, per conto, in 15 giorni, lessi 30 romanzi gialli, una cosa, mostro, fra tuoi, tutti i grandi classici che io ignoravo. Da quel momento mi è venuta questa ispirazione di leggere, di continuare a leggere romanzi gialli e poi a un certo punto di scriverli, ecco. Molto interessante il tuo discorso anche a priori del discorso del giallo sul fatto che ti abbiano in qualche modo ingessato in una formazione di lettore, di, pardon, di scrittore comico e ti hanno in qualche modo fatto arrivare a sei libri comici prima di poter fare un passo avanti per arrivare in una narrativa più concreta. Comunque, questa del giallo ti racconto un aneddoto per poi farti un'altra domanda più specifica. Di recente, sappiamo che il giallo anche grazie a Loriano ha preso una nuova vita dagli anni, metà degli anni Ottanta e in poi, di recente un editor di un editore romano ricevendo un romanzo giallo di un autore della nostra città non l'ha neanche letto perché ha detto che palle questi bolognesi, tutti giallisti. Questo è stato il commento. Quindi, si arriva forse a una certa saturazione anche di questi generi che comunque continuano ad essere pubblicati. Questo discorso era però per introdurci all'inizio di questa rinascita del giallo perché tu hai fatto parte del famoso gruppo 13 che a Bologna dagli anni 90 in poi è stato molto popolare, molto attivo grazie alla casa editrice di Luigi Bernardi che iniziò a pubblicare i primi testi. Raccontaci qualcosa di questo gruppo 13 di cui io so molto ma molti conoscono questa denominazione ma non sanno troppo della storia di questo gruppo. Ma io francamente devo dire che non è che ne so tantissimo perché io intanto sono arrivato quando già il progetto del gruppo era un po' avanzato e ho cominciato a farne parte quando ancora non avevo scritto nessun romanzo giallo avevo scritto solo dei racconti gialli e Machiavelli mi aveva così mi aveva chiesto di farne parte visto i miei interessi diciamo così teorici sul giallo più che per la produzione vera e propria io ricordo che c'erano delle persone alcune persone di cui che facevano parte del gruppo che io però non ho mai visto in vita mia mi ricordo una ragazza però adesso non ricordo neanche il nome di questa ragazza quindi non so neanche se ho letto qualcosa poi di alcuni si sono persi per esempio Gianni Materazzo non so che fine abbia fatto non so più niente che per un periodo era sempre lì assieme a noi poi dopo si è perso e non so cosa faccia adesso ecco quindi però fu un momento credo abbastanza importante perché poteva significare era l'atto di fondazione probabilmente del giallo italiano perché Machiavelli non è stato il primo scrittore di giallo italiano ovviamente ma perché è così importante perché è stato quello che più di Scerbanenco più degli altri più di tutti quelli prima ha mostrato che il giallo italiano era possibile questo non vuol dire che lui sia più grande di Scerbanenco no vuol dire che quello era un caso isolato che non aveva uno strato sociale letterario colto dietro da poter permettere invece Machiavelli ha mostrato che quello era il momento giusto per scrivere per cui anche gli italiani potevano scrivere gialli per sfatare la famosa sentenza di Francesco Flora professore esimio di italiano all'università anche di Bologna se non vado errato nei miei ricordi ecco che disse una cosa più o meno cito a memoria la lettura del giallo è un divertimento per i deficienti ecco più o meno questo accadeva negli anni 30 ma insomma si è la nostra tradizionale cultura idealista ha sempre perpetuato questa 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 idea che aveva Francesco Flora ecco l'Oriano Machiavelli ha mostrato che invece era possibile fare un giallo ed era possibile fare un giallo italiano non un giallo che non fosse solamente americano e il gruppo 13 fu in qualche modo la formalizzazione di questa possibilità il veicolo portante di questa idea di Machiavelli che si tramutò nei fatti ecco tant'è vero che alcuni di questi sono diventati degli importanti scrittori fra cui Cacucci fra cui Lucarelli Fois eccetera ecco questa cosa della letteratura di serie B poi basta ricordare che Wittgenstein leggeva Gialli a sprombattuto vorrei chiederti un'altra cosa ancora su questo argomento tu sei anche un traduttore ma sei anche molto tradotto so che sei stato tradotto in Francia negli ultimi anni cosa è stato tradotto di te il tuo libro di Longanesi il romanzo o le tue pubblicazioni comiche dunque no le pubblicazioni comiche sono state tradotte nei paesi di lingua spagnola cioè in Argentina sono stato anche primo in classifica in Argentina con il Vagdamecon del single boy sono stato ho avuto cinque edizioni in Spagna sempre con il Vagdamecon del single boy e in Portogallo e mi pare in Grecia non sono sicurissimo però di questo non mi ricordo più in Francia invece sono stato tradotto con un racconto il racconto che appariva nell'antologia del gruppo 13 ecco e poi niente stanno è in giro il romanzo precedente a quello lì che non so cosa se ne farà tutte le notte qualche giorno ecco questo ti dicevo questo perché la Francia invece è sempre stata molto attenta alla letteratura cosiddetta di genere il polar ma non è mai stata considerata una letteratura di serie B anzi è stata considerata una delle poche letterature veramente inserita nel sociale attraverso le quali era possibile parlare delle disavventure che la società del tempo portava il portato dei libri di Manchette e di tanti altri è proprio questo e anche questo credo sia uno dei motivi per cui molti autori oggi si cimentano nel giallo per poter parlare di qualcos'altro anche ma entriamo un attimo un po' più approfonditamente nel mondo di Sandro Toni che è anche il direttore della biblioteca della Cineteca di Bologna ed è una persona che è cresciuta oserei dire che fa colazione con pane cinema al mattino questo tuo lavoro ti avrà portato in qualche modo ad avere contatti con il mondo del cinema e della scrittura tu hai anche scritto sceneggiature e credo tuttora sia impegnato in qualcosa di cinematografico sì io fino dall'età dei non so tre anni io vedevo cinque film al giorno semplicemente perché i miei avevano un cinema e mi mettevano non sapevano dove mettere mi mettevano su una seggiolina io vedevo tutti i film che passavano e così sono andato avanti poi è diventata una una passione di studio ecco e naturalmente siccome la mia altra grande passione alla letteratura ho unito le due cose e ho cominciato a scrivere sceneggiature mi sono sempre interessato di sceneggiatura era sempre la parte del cinema che mi ha attratto di più ecco ho fatto dei corsi di sceneggiature poi dopo ho cominciato a scrivere sceneggiature inizialmente per dei film amatoriali poi per la televisione francese e poi adesso per adesso ho fatto in collaborazione con Gianni Cavina abbiamo fatto una sceneggiatura che dovrebbe partire l'anno prossimo con la regia di Benvenuti Alessandro e con la partecipazione di Benvenuti a Gianni Cavina come attori e pare di Emanuele Behar come attrice è quello che si dice io non ci sono già io non puoi venire ecco poi dopo adesso abbiamo scritto sempre con Gianni Cavina un'altra sceneggiatura che aspetta di essere così prodotta ecco siamo in trattative diciamo però mi piace molto la sceneggiatura credo che sia una cosa la cosa che mi piace più di tutti fare ecco perché mi ci trovo bene mi sento a mio agio ecco la scrittura per il cinema è abbastanza differente dalla scrittura letteraria quindi bisogna gioco forza esserne esperti e averla studiata e praticata a lungo tempo tu dici è la cosa che mi piace più di tutti la scrittura per il cinema ma in realtà tu sei un grandissimo esperto di cocktail forse secondo me i cocktail ti piacciono ancora di più della scrittura e del cinema e hai avuto anche esperienze didattiche in questo senso sì devo dire che il cocktail è una cosa è una mia grande passione che coltivo non dico dalla più tenera età ma insomma da quando ero ragazzino e l'ho sempre molto coltivato l'ho sempre studiato ho scritto una prefazione che io ritengo una delle cose più belle che ho mai scritto in vita mia ha un libro che ha il primo libro italiano sui cocktail apparso che siccome è apparso in epoca fascista avevano cancellato sulla copertina cocktail ecco e l'avevano chiamato misture cocktail è troppo si chiamava invece non si chiamava mille cocktail come era il titolo originale si chiamava mille misture e uno uno dei cocktail più importanti era il cocktail duce c'era il cocktail duca d'alba e quindi erano tutti riferimenti chiari all'epoca e al periodo ecco poi ho sono stato invitato in una trasmissione del gambero rosso in tre trasmissioni a parlare di cocktail di cocktail diciamo così letterari e cinematografici cioè quei cocktail che si ritrovano sempre nei libri nei libri ecco e c'era con un barman un grande barman che faceva questi che rifaceva questi cocktail e io qui ho dato fondo alla mia conoscenza di cocktail nei libri e nei film con alcuni fra l'altro di grandi giallisti c'è per esempio Chandler che racconta di un cocktail che si chiama in inglese Gimlet e in italiano tradotto con succhiello il famoso succhiello dove lui dà anche la ricetta e dice che c'è un bar non so dove che fa il vero succhiello che secondo la traduzione italiana batte in pieno il martini ecco io naturalmente per anni ho cercato gli ingredienti per fare questo succhiello e la cosa più difficile è stato trovare il succo di cedro marca roses sta di una difficoltà assoluta finché qualcuno non me l'ha portato dalla Germania e io qui ho molto rivalutato i tedeschi devo dire e ho potuto fare questo cocktail che del resto e ha poi fatto questo barman durante questi incontri a Roma bene mi sembra una divertentissima ed eccellente oserei dire saporita nota per chiudere questo nostro incontro ricordando che la mistura cocktail cinema letteratura è una delle cose più gradevoli probabilmente che si possono sperimentare di persona ringraziamo Sandro Toni per la sua simpatia e per la presenza ricordiamo che il libro che ha scritto assieme a Loriano Machiavelli Sarti Antonio e l'assassino è bello appassionante divertente e travolgente chiudiamo con la solita chicca con la quale finiamo questi nostri incontri vi racconto una bella citazione di un pazzo delirante che si chiamava Choran un grande scrittore meditatore francese scomparso alcuni anni fa che in un suo libro scrisse sogno una scrittura che come pugni fracassasse le mascelle credo che sia un buono spunto per meditare grazie e al prossimo incontro